Aggiornare a Linux Mint 21 da Linux Mint 20.3 è possibile con un nuovo strumento già collaudato per l'aggiornamento dell'edizione Debian di Linux Mint dalla versione 4 alla versione 5. Vediamo come funziona e scopriamo consigli e buone pratiche per gli aggiornamenti tra versioni differenti di Linux Mint. Ciao da Dario di Alternativa Linux e benvenuto in Casentino dove passo la maggior parte dell'anno. L'aggiornamento a Linux Mint 21 è possibile dall'8 agosto grazie ad un nuovo strumento di aggiornamento sviluppato dal team di Linux Mint. È possibile effettuarlo solo nei sistemi in cui si è installata la versione 20.3 del sistema operativo. Nel video sulle novità in anteprima di Linux Mint 21 ho chiarito il ciclo dei rilasci e la differenza tra versioni maggiori e minori. Ti invito a dargli un'occhiata se non hai familiarità con questi concetti. Se infatti le procedure di aggiornamento previste da una versione maggiore come Linux Mint 20 Uliana alle versioni .1, .2 e .3 che solitamente sono previste ogni circa 6 mesi, il passaggio ad una versione completamente nuova che è rilasciata ogni circa 2 anni è più complesso e delicato. La procedura per aggiornare da Linux Mint 19.3 Tricia a Linux Mint 20 Uliana era ancora rudimentale, non semplicissima per un inesperto, delicata ed incerta nei risultati. Ma il team di Linux Mint ha presentato con orgoglio il nuovo strumento. Se mi chiedi se valga la pena aggiornare subito Linux Mint 20.3 a Vanessa, io rispondo di no. Ma poi ho scoperto che anche il fondatore del progetto suggerisce di non affrettarsi se tutto funziona perfettamente. Vale la pena ricordare infatti che Linux Mint 20 e successive versioni minori riceveranno supporto e aggiornamenti fino a primavera del 2025. Anche Linux Mint 19 e successivi aggiornamenti avranno supporto fino a primavera del 2023. L'ho detto più volte, il passaggio da un nuovo rilascio a successive versioni minori può valere sempre la pena effettuarlo in tempi rapidi. Affrettarsi a passare ad un nuovo rilascio maggiore, se affidabilità e tranquillità sono per te fondamentali, meno. Ti confesso infatti che qualche problemino al nuovo ambiente Cinnamon appena riscritto l'ho incontrato fin dal giorno in cui ho installato la versione beta non definitiva del sistema. Alcuni sono risolti ma non tutti. Proprio ieri, con la versione definitiva già installata dalla ISO ufficiale, mi sono ritrovato, al momento di spegnere il computer, bloccato nella schermata iniziale di login senza alcuna scelta se riavviare o spegnere e ho dovuto interrompere forzatamente la corrente. Un amico del blog nei commenti mi dice di aver incontrato problemi con una vecchia scheda grafica Nvidia dopo l'aggiornamento. Insomma, non bastano i test effettuati sulla versione beta ed il riscontro ottenuto dai pochi smagnosi che la provano in anteprima per scoprire cose che non vanno. Una buona regola generale potrebbe essere quella di attendere una versione .1 del sistema operativo per passare dalla .3 della versione maggiore precedente alla nuova e poi alla .1 o magari, meglio, installandola sopra alla precedente da un supporto USB o DVD. Come premesso, nel computer devi aver installata la versione .1 di Linux Mint per ottenere lo strumento ed aggiornare a Linux Mint 21. È sempre così. Puoi aggiornare alla nuova versione maggiore di Linux Mint solo dalla .3 della versione precedente. Per scoprire la versione installata, apri il menu, digita Info e premi Invio. La finestra informazioni di sistema te lo indica. Se hai una delle versioni precedenti di Linux Mint 20, dovrai prima aggiornare il sistema proprio a Linux Mint 20.3. Se invece hai una versione di Linux Mint 19, dovrai prima aggiornare a Linux Mint 19.3, da questa a Linux Mint 20, poi a Linux Mint 20.3. A mio parere, non vale assolutamente la pena, in questi casi, di far attraversare al tuo sistema differenti, complesse procedure, piuttosto che salvare il necessario e ripartire da una chiavetta preparata con Linux Mint 21. Anche il team spiega che una nuova installazione richiede un quarto d'ora e sgombra la strada da tanti possibili imprevisti. In questi casi puoi ricorrere ad un'installazione pulita o, come viene chiamato dal fondatore, un aggiornamento pulito. Installare cioè dalla chiavetta preparata con la nuova versione sulla partizione esistente. Prima di qualunque operazione, crea uno snapshot del sistema installato con Timeshift. Avvia la sessione live della nuova versione di Linux Mint e apri il programma Gparted. Identifica la partizione EXT4 con punto di montaggio SLASH che ospita l'installazione e con un click del pulsante destro scegli Elimina. Applica la modifica con il pulsante con il baffo nella barra del menu, chiudi Gparted e avvia l'installazione. L'utilità scoprirà e suggerirà di usare tale spazio non allocato sia che Linux Mint sia l'unico sistema operativo che nel caso di dual boot con Windows. L'aggiornamento non comporta l'eliminazione dei dati personali salvati nelle cartelle home dei singoli utenti che hai creato. Nemmeno i file di configurazione e personalizzazione dei programmi successivamente installati dai repository ufficiali e da gestori applicazioni sono di regola rimossi. Ciò a quanto pare non è sempre vero perché dopo l'aggiornamento non ho ritrovato le regole preimpostate nel firewall e ho dovuto ricrearle per dare accesso a Warpinator tra le postazioni in rete. Credo infatti che se il medesimo programma che troverai installato in Mint 21 in versione molto più aggiornata ha subito modifiche importanti, qualche altra anomalia in questi programmi potresti trovarla. È però consigliatissimo eseguire preventivamente un backup del contenuto della directory slash home. Puoi copiare l'intera cartella in un differente supporto di archiviazione oppure creare un backup di dati personali ricorrendo allo strumento di backup che trovi nel menu sotto amministrazione. Anche la preparazione di una lista di programmi aggiuntivi installati successivamente è cosa rapida con lo strumento di backup. Ne ho parlato anche nel video reinstallare Linux Mint. Con Linux Mint 20.3 installato apri gestore applicazioni, digita Mint 2 e troverai il pacchetto Mint Upgrade che potrai subito installare. Se non lo trovi il team consiglia di puntare le origini software che trovi da apposita opzione nel menu amministrazione o da gestore aggiornamenti sotto modifica sul repositori principale statunitense di Mint. Installato lo strumento per eseguirlo dovrai ricorrere al terminale. Apri una finestra e digita sudo Mint Upgrade. Ed ecco la finestra da cui lanciare la procedura. Non appena la avvii, se il computer è portatile, indipendentemente dal livello di carica dovrai averlo collegato alla rete elettrica per poter proseguire. Verrà effettuato un controllo preventivo dello stato delle tue installazioni che dovrebbe richiedere un paio di minuti. Il passo successivo per aggiornare Linux Mint 21 impone la presenza di almeno uno snapshot di sistema, cioè un backup della configurazione. Da eseguirsi con il programma Timeshift di cui ho parlato nella post-installazione di Linux Mint 20 e ne parlerò di nuovo con i prossimi video dedicati a Mint 21. Segui la procedura guidata suggerita con R-Sync ed indicando un harddisk o supporto esterno formattato con il file system EXT4. Puoi lasciare inalterato il suggerimento di Timeshift di salvarlo nella partizione del sistema. Lo ritrovi all'interno della tua home e puoi ripristinarlo in caso qualcosa vada storto. Creato lo snapshot, chiudi la finestra di Timeshift e l'aggiornamento prosegue con alcuni controlli che verificano anche la presenza di programmi installati al di fuori dei repository ufficiali. In questi casi la procedura non potrà reinstallarli, ma ti consente di mantenere nella tua home i suoi file di configurazione, in modo da poter ritrovare le impostazioni inalterate se lo reinstalli. Clicca il programma o i programmi estranei per mantenere i file e poi ricontrolla. Oppure correggi per saltare e proseguire. Dopo altri brevi controlli su pacchetti inutilizzati, avvia la fase 2, che consiste in alcuni test e nello scaricamento dei pacchetti necessari dai nuovi repository che sono stati appena impostati, ovvero quelli della base di Mint 21 e quello della versione di Ubuntu su cui si basa, la 2204LTS, nome in codice JEMMYJELLYFISH. Viene quindi simulato preventivamente e senza conseguenze un aggiornamento per verificare eventuali problemi. Il risultato della simulazione viene mostrato. Dovrai scaricare l'equivalente dei 2,4 GB della ISO di Linux Mint 21, ma alla fine non avrai la ISO. Se hai più PC da aggiornare, comprenderai che non ha molto senso, specie se non hai una linea dati fissa. Comunque, andiamo avanti con OK e attendiamo fiduciosi in base alla velocità della connessione. Scaricati i pacchetti necessari, si avvia la fase che aggiorna alla nuova versione i singoli pacchetti. Anche qui le prestazioni di un hard disk meccanico o SSD possono fare la differenza sui tempi richiesti. Il computer viene spremuto e comincerà a respirare intensamente. Al termine di questa fase verrà riepilogata una serie di pacchetti software presenti nella tua installazione di Mint 20.3 che non hanno corrispettivi nel nuovo sistema operativo. C'è poco da fare se non controllarli singolarmente. Alcuni è normale che non ci siano come quelli legati alla nuova e differente gestione del Bluetooth. Altri potrebbero essere stati installati da repository aggiuntivi o da file.deb scaricati da internet. Verificato ed eventualmente ricontrollato l'elenco, non resta che indicare allo strumento di aggiornamento di procedere all'eliminazione dei file cosiddetti orfani. Sappi che nella tua cartella home, al termine della procedura, troverai un file log in cui potrai identificare tali pacchetti ed eventualmente ripristinarli. A questo seguirai il completamento della procedura di aggiornamento e potrai riavviare il sistema usando Mint 21. Mi raccomando, riavvia e non spegnere se non dopo il primo riavvio, perché non è la stessa cosa. La pagina ufficiale in inglese con le informazioni per l'aggiornamento cita come possibile problema quello relativo all'avvio del sistema al termine dell'aggiornamento. Se incontri problemi di questo genere, il team suggerisce di usare una chiavetta preparata con Linux Mint, anche una versione precedente, avviando una sessione live ed eseguire lo strumento Boot Repair applicando la riparazione raccomandata. Se ancora non risolvi, avvia di nuovo una sessione live di Linux Mint ed esegui Time Shift, il quale sarà in grado di verificare lo snapshot obbligatorio salvato nel computer e ripristinare lo stato del sistema a quel momento. Ovviamente in questo caso converrà reinstallare Linux Mint 21 partendo da una nuova chiavetta adeguatamente preparata. Ebbene, nel medesimo tempo che ho impiegato per installare e configurare Linux Mint 21 con una chiavetta in tre differenti computer, uno mio e altri due di amici, uno alla volta sono riuscito ad aggiornare il mio portatile, non nuovissimo, ma di fascia alta e con SSD, attraverso una connessione mobile, vero, ma che sfiora i 18 Mbps. Vuoi ancora il mio parere se convenga aggiornare o installare da capo ricopiando il backup della cartella home in posizione e con un solo comando file di testo per reinstallare tutti i programmi aggiuntivi? Grazie per aver visto il video e a presto con nuovi video su Linux Mint 21 e non solo, ma anche nuovi articoli nel blog alternativalinux.it e i miei libri con tantissime informazioni su Linux Mint che non ho pubblicato altrove. Ciao!